però le discoteche discoteche saranno chiuse secondo me cioè perchè se vede una discoteca aperta ve l'arrivo qualcuno, si si, quindi qualcosa si fa però visto che quelle discoteche sono chiuse le due andavano tipo un po' al sud e ci facevamo tipo Puglia quei posti lì quello sarebbe bello a Fabio e Tor io faio non contate vedete la coloncina sai che? ok c'è che spara? me no ma no è lontano la vacca no madonna oh mi ruba il sensore presa un membro del team è diventato un bersaglio ricercato proteggetelo dove dove? mi muovo di qua ah di sensore che devo dire nemico thank you sensorizzare nessun battito cardiaco presente oh là c'è una cassa arancione no c'è ne ho fatta io una ma solo questa si quella è l'interessuto non è l'interessuto comunque questo gioco hai detto ah per la quarantena si hai grappa a te è grato appalto i 100 giga di play che abbiamo dovuto liberare no io mi favo anche un po' di più praticamente la play è fatta solo per sto gioco adesso io una volta avevo almeno 5 o 6 giochi più o meno di 90 giga testa più o meno adesso ne ho due tipo questo e della fast ma io tipo mi ricordo che world war 2 o world war qual'è world war? ma l'è venuto la mamma mia che aim fish che hai fatto? che hai fatto? comunque adesso dicono che anche il nuovo meta probabilmente è il brù oh ragazzi è la zona il brù è una mia tagliatrice leggera tu metti un quadro per l'elicotterle? oh fatto no dove va? vuoi abbandonare così? oh sto bene lascia best eh vada ecco perfetto se ci arriva un altro non possiamo più usare i flares ma non lo vuoi spazio a te no ce ne sono uno vai qua che finiamo ricercato tra 20 secondi vai lì dal negozio che tu dici teniamo la cassa no dai scendere il bersaglio ricercato è sopravvissuto ottimo Jack dammi tuoi soldi che così faccia una guarda a te ah va bene aspetta oh cassa di protezioni si dai brava che venirà quella che nel caso la uso in due cosa guardi l'orologio mi servono i tuoi soldi hai voluto vedere il mio rolet è un lancio d'equilibrio in arrivo ma che hai sbagliato l'hai fatto apposta te l'ho detto mezz'ora prima ho sbagliato dopo mezz'ora che te l'avevo detto bastardo sei anche un bastardo dai chi è che ha messo questa? no non la posso usare io puoi usare? no la posso usare solo te ti ho detto Fabio prendi la V oh ho sbagliato venitemi qua che merda dai veloci che così prendi la taglia però ho il buffe bello al posto del passeggero e ce li facciamo facile eh venite venite che sono fuori zona che andiamo lassù e ce li facciamo avete il cecchino qualcuno di voi? no no mi sposto sono tipo anche su stanno dovevamo vederli eccoli 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 guardando tu Fabio devi battere solo la fede c'è la zona però eh dategli una spizzata poi basta e aia puttana la merda c'è un cecchino a destra alla sinistra alla destra alla destra venite sparaite fuori dai coglioni evacuare la zona dai figli di una puttana ma tanto quelli la ci muoiono quindi ragazzi oh eh con lo stadio andiamo aia occhio cambia posizione cerco di olio ho sparato sbagliato ok ok ricomponetevi soldati no no tutto ci sparano si ma siamo lontanissimi occhio viola le veliche eh ah che boia prendiamo fantasma e torniamo su lanciatevi soldati dopo vi vengono in grado a recuperare metto io si ma ricordatevi che io ho la cassa di protezione eh nemico la nemico la vedo un movimento tornare su no no si stai già scesi aca boia aca boia dobbiamo andare aiutiamo il compagno mi faccio il nemico porca puttana vaffanculo se madonna santa marco marco stai su stai su stai su ma lo c'è uno e da qua lo c'è uno su e lo so sto scappando marco non posso venire a recuperare non è sicuro anzi no forse si ti do un consiglio prendi una corona e stai in cielo marco sto tornando da te resistimi oddio arriva una macchina marco arriva una macchina portalo giù colpatuca no vieni recuperare il suo testo scappa marco vieni qua aiutami critici no 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 non te li sei giù ok con calma una cosa alla volta vieni qua io son dentro ho lanciato ma dov'è un nemico ah si forse lo butto giù ma sono scappati proprio in tempo no ma chi è che è morto sono morto io si ragazzi ragazzi io sto sono un po' confuso calma no piglio le colazze che macchina ah quella la marco dov'è marco dov'è ah ca miseria minestra c'è stato un nemico capa ma voi stai incendentato di prendere la macchina oddio arriva un jet ball com'è che si chiama un razzo no ragazzi vado a pigliar oh questo qui vuoi da dove è vicinissimo marco mi cerca dagli alberi vengo in no no c'è il jet ball c'è il jet ball che si spara il jet ball com'è che si chiama metti lo scudo fabbro metti lo scudo metti lo scudo aia munchecchino è lo scudo mobile che c'hai bravo vai aspetta eccoci aspetta oh sotto a sinistra fabbro si arriva da davanti fai esplodere no no dobbiamo fabbro arriva da qua eh in movimento no coprimi coprimi che mi colacco carica 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 ce n'è un altro eh fabbro corazzati fabbro corazzati bravo ti copro io occhio a mi a è a sinistra a che no fabbro ce n'è uno qua vicino aspetta che mi sto correzzando ok il tuo il ti copro io è qua a sinistra uno lo vado a uccidere no è dentro è dentro la tenda buca la tenda ecco ditto davanti al fabbro marco copriti uccidilo nemico eliminato uno fabbro che arma hai di secondaria ecco ucciso ucciso marco coprimi ok ok copri copri dove vai stai qua dietro la calazza butta un ammaldamento sotto di noi no si c'è uno arriva a sinistra a sinistra staglio agganciato fuori ci sei una monta si lecniman lecupero lecupero il corpo oh mio ti avete ucciso centro bel colpo avevo ragione aspetta ti mani entrato no no avete entrato qualcuno oh venga ecco l'ho visto è qua è qua è 13 usa il sensore eccolo oh state pronti eh to' è senza calazza madonna fammelo push no a terra uno a terra uno copri una è senza niente arriva da lì oh dai sinistra sinistra papro è eliminato oh ragazzi vi rianimate vi rendete tutto così magico vi prego vi prego arrivo no aspetta fermi fermi tutti fermi tutti questo scontro è giorni in prima linea perdi e per te è finita no jack scappa prendi la corona vai per no jack devi andare dalla cassa vai dalla cassa prendi la corona vai alla cassa prendi la corona hai visto andate dalla cassa poi dalla corona no 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 nicolai dove eri tocco ma non dove scendere lì non dove lì scendere ah c'è infatti siamo pieni di soldi ah no non è per quello no soldati dobbiamo devi andare da qui dalla cassa dalla cassa e poi andare dalla corona no prima vai dalla corona poi dalla cassa no no era andare al negozio era andare al negozio vai dalla corona volesse vai dalla corona corona prima poi vai dalla cassa col quad ma no ma rispondendo la colonna che la colonna è poi zona che se adesso parte io ne ho 4 vado chi che roba ragazzi ma è che bello col vector oh prendi l'elicottero stai in cielo però l'elicottero non dovrebbe essere lì ma non hai preso ma non hai preso la colonna la colonna devi prendere la presa la presa hai preso la corona ma non hai preso quella che ti dice voi vabbè schifoso dai marco ma no a parte che ah si hai preso quella fammi vedere oh c'è qualcuno qua no no ma c'è è tuo l'elicottero è tuo l'elicottero no c'è un trapano aspetta no non so come si fa sul tetto vai a sinistra a sinistra non lì non lì sinistra lì sinistra 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 segui ecco da lì da lì non cadere ma torna lì ma porca ritorni a dentro c'è un'elicottero c'è un'elicottero c'è un'elicottero c'è un'elicottero c'è un'elicottero anche te ecco ciao uccidilo ce la fai no la dietro di te merda ti ho detto non cadere cazzo non c'è un'elicottero mi bastardo che è un'elicottero che è un'elicottero